Ecco il piano per il rilancio della Toscana, illustrato in Consiglio regionale il PRS 2021-2025, un miliardo e mezzo per interventi in sanità, infrastrutture e connettività. Favorire l'uso dei monoclonali, risoluzione presentata da Italia Viva per promuovere maggiormente l'uso degli anticorpi nella lotta al Covid-19. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. È stato illustrato in Consiglio regionale il programma regionale di sviluppo 2021-2025, il PRS. Una parte rilevante delle risorse dovrebbero essere dedicate a sostenere la ricerca e la formazione per superare il digital divide, cioè per creare per tutti le possibilità di accesso alle tecnologie dell'informazione. Ma altri pilastri del piano sono la sanità e le infrastrutture, tra le quali sono previsti anche gli assi viari di Lucca. Il piano si articola in 27 progetti regionali e nei già collaudati piani e programmi della Regione. Le risorse disponibili sui primi tre anni ammontano a circa un miliardo e mezzo. Al termine del dibattito sono state approvate una risoluzione del PD e cinque risoluzioni della Lega. Sentiamo le interviste ad iniziare dal Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato Recovery Plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social, è un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro, che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi cinque anni. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica. Su tutti questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche e circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana. Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare, ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale, che valorizzi la sua rete ospedaliera, anche fatta dai piccoli ospedali che hanno comunque mostrato una grande utilità in questa fase. E poi l'innovazione tecnologica, non soltanto applicata all'impresa, quindi alla produzione artigianale e industriale, ma anche alla pubblica amministrazione e quindi ad una maggiore velocità nella risposta che dovrà essere data ai cittadini e alle imprese. E poi come elemento di più eco e migliore accesso ai servizi, pensiamo ad esempio alla telemedicina, in grado di abbattere anche le distanze di residenza dei nostri cittadini tra chi sta magari nella realtà urbana vicini ai grandi ospedali e chi invece sta nelle aree interne. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal PNRR, vale a dire il Piano Nazionale di Residenza e Rilancio. E quindi ci saranno risorse importanti che però dovranno essere colte. È una grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre toscane a cui fa riferimento l'IRPET, vale a dire quella più ricca, più dinamica, quella centrale, più urbanizzata, con la costa e le aree interne che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato, proprio in questa fase di pandemia, anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo, anche di carattere turistico. Quindi la Regione dovrà cementarsi con queste esigenze ma cogliendo questa grande sfida. Questa grande sfida che va giocata non da soli ma in una grande collaborazione, un grande coordinamento tra la Regione, gli enti territoriali, i vari stakeholder che operano sul territorio, quindi le imprese, le associazioni di categoria, il volontariato, le parti sociali e poi il rapporto con l'Europa e con il Governo. Noi abbiamo in questo momento un atteggiamento molto diverso dell'Europa e molto più a supporto degli Stati che ne hanno bisogno come l'Italia. Ecco, questa grande occasione non la dobbiamo perdere, la dobbiamo giocare con una grande capacità progettuale per quanto riguarda i progetti che direttamente sviluppa la Regione, quelli che dobbiamo sollecitare in campo nazionale che comunque insistono sul nostro territorio e anche quelli che riguardano territori dove gli interlocutori sono magari soggetti istituzionali più piccoli che vanno supportati aiutarti anche a sviluppare una progettualità in grado di cogliere queste grandi opportunità. Oggi abbiamo iniziato a discutere il documento preliminare perché nonostante lo Statuto preveda sei mesi per presentare lo schema di piano regionale di sviluppo in realtà la Giunta è in ritardo, ritardo parzialmente comprensibile perché ovvio la discussione si lega al PNRR, cioè al Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa e naturalmente alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Molte dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto, in realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. E' ovvio, non tutto va male, ma il Governo regionale deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria con un percorso chiaro perché i tempi del PNRR sono tempi molto stretti, entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. E in questo senso, e concludo, va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici allo stesso piano di mobilità integrata, sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche. E tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse trite e ritrite e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio, sul benessere delle persone, ma sempre su numeri del PIL. Ci aspettavamo sinceramente affrontasse i temi entrando un po' più nello specifico. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi. La Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male, che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Oggi nascono e nell'epoca della digitalizzazione avranno due vite differenti. Chi non nasce in zone coperte dalla digitalizzazione, zone più evolute da un punto di vista digitale, parte svantaggiato, parte svantaggiato per il percorso di studi, parte svantaggiato per potersi collegare culturalmente col mondo, parte svantaggiato per poter viaggiare, per poter crescere culturalmente. Questo è qualcosa di totalmente inaccettabile. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, qualcosa che porti monetizzazione, che porti interesse, che si riescano a capitalizzare questi soldi, oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo, perché se oggi questi soldi vengono spesi in provvedimenti spot, che non portano un ricircolo del denaro, che non portano un rilancio reale dell'economia, quello che oggi sembra un regalo potrebbe diventare presto un incubo. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico, perché il paera è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata, perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana, creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide, che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei, ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancora al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata, ma pensiamo che sia utile e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza, cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori e alla Toscana. Perché da una grande opportunità, altrimenti questo piano potrebbe rivelarsi una programmazione sbagliata e che non risponde a tutti quei cittadini che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche si rivolgono a noi piuttosto che al PD, piuttosto che a altre forze politiche. Cambiamo argomento, Italia Viva ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale per chiedere che si faccia di più per promuovere l'uso degli anticorpi monoclonali nelle strutture ospedaliere toscane ovviamente in funzione anti-covid. Per il partito di Renzi serve tra l'altro una cabina di regia. Sentiamo il consigliere Stefano Scaramelli. Un atto forte ho presentato il Consiglio regionale per impegnare il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni a impegnarsi in prima persona. Serve che la Toscana faccia la propria parte nel percorso di sperimentazione serve aumentare il numero delle persone che si sottopongono in termini volontari a questo processo che è importante se pensiamo che noi abbiamo circa 100 positivi al giorno basterebbero 6 positivi al giorno che entro le 72 ore potrebbero sottoporsi in maniera volontaria a una cura che li può guarire e nel guarirli li rende intanto sicuri del fatto che la loro condizione di salute non peggiora e allo stesso tempo danno un contributo straordinario alla scienza perché servono 800 persone in Italia che danno un contributo a me successe nel momento in cui diedi il mio sangue subito appena malato e quindi guarito dal covid perché da qui il processo si può aiutare la scienza avere un farmaco è determinante perché avere un farmaco ti può consentire di non dover fare magari il terzo richiamo di vaccino può avere essere un effetto importante qualora le persone si dovessero poi riammalare anche dopo l'estate e soprattutto può farci tornare una vita normale questo è un tema sul quale noi non si può mai abbassare l'attenzione bene i vaccini oggi ma domani servirà comunque un farmaco per uscire da questa pandemia se no no noi non usciremo mai da questa pandemia e la Toscana ha un farmaco l'ha prodotto è nelle disponibilità il governo si è impegnato ad acquistarne 200.000 dosi è l'unico progetto pubblico che potrebbe diventare di proprietà pubblica cioè lo Stato la Regione titolari del farmaco grazie al quale si può avere la disponibilità della risoluzione della pandemia e non può la Toscana non partecipare al processo di sperimentazione Siena Pisa Firenze devono fare 40 processi di sperimentazione hanno le possibilità di fare due malati al giorno noi chiediamo che medici di base volontariato aziende del territorio aziende universitarie sentano loro questa battaglia e questa sfida perché può veramente essere la soluzione alla pandemia e se ciascuno non dà un contributo all'altro ci eravamo detti da questa storia uscivamo tutti insieme altrimenti diventa difficile se ognuno pensa che ha fatto il vaccino per sé e se ne frega degli altri qui il problema non si risolverà mai oggi è un atto importante e a me fa piacere che il Presidente Ciani a seguito della risoluzione che poi ringrazio tutti i gruppi che la stanno firmando e l'hanno firmata e verrà approvata all'unanimità quindi ha dato poi mandato al fatto che seguirà personalmente questa questione cambiamo ancora argomento presentata in consiglio una risoluzione per destinare aiuti al settore dell'educazione internazionale in sostanza le università per stranieri ce ne parla la Presidente della Quinta Commissione Cristina Giacchi la Quinta Commissione ha presentato un atto in consiglio regionale oggi una risoluzione per aiutare e sostenere un mondo di imprenditori di dipendenti che finora è rimasto fuori da ogni meccanismo di aiuto da ogni provvedimento di aiuto e sostegno si tratta del settore dell'educazione internazionale dell'International Education università americane scuole di italiano per stranieri istituzioni generatrici di indotto anche turistico perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività senza utenti che invece stanno pian piano tornando è un settore che impiega moltissimi insegnanti precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese ci sembra un settore da aiutare è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi tra Firenze e Siena ci sono le due città in Italia che raggruppano più centri più scuole internazionali dopo Roma e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione